Oggi vi porto a scoprire un segreto della tradizione orologica dell'asti di OCG. Vi siete mai chiesti da dove viene tutta l'esperienza che possiamo trovare in un calice di asti spumante e di moscato d'asti di OCG? Dal lavoro quotidiano di tante figure professionali che si adoperano per rendere sempre migliori questi vini. Dall'agronomo al viticoltore, dal cantiniere al responsabile dell'analisi del controllo qualità delle uve per arrivare all'edologo e al sommelier. E a queste persone che ci affidiamo da sempre per portare in tavola vini straordinari fatti su un territorio davvero unico. Impossibile non essere loro grati per quello che fanno. Il Brindisi va a loro. Grazie! 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 Grazie!